Fratelli Ban nasce subito dopo la guerra fondamentalmente dalla volontà di quattro fratelli che ricercano fondamentalmente nella loro professione un'attività spinta dalla mamma. Iniziano fondamentalmente un'attività di commercializzazione di pochi prodotti. Mia nonna che produceva fondamentalmente corvole, che quindi aveva la manualità, era il primo prodotto che dava ai figli per cercare di vendere. Fondamentalmente questi fratelli partivano da Sassari e scendevano verso il sud della Sardegna. Arrivavano nel sud Sardegna e scambiavano, vendevano fondamentalmente l'olio e questi prodotti prodotti nel loro paese con i cereali. Mi raccontava il giorno che erano andati a comprarsi il camion, che mia nonna era fortemente preoccupata per questo grandissimo investimento che facevano. Mi diceva siamo scesi col carro l'asino, siamo tornati su con questo camion bellissimo, con i suoi racconti. A fine anni 50 decidono di stabilirsi qua su Oristano, semplicemente per un motivo, perché era al centro della Sardegna. Quindi da un punto di vista logistico e per le attività e per il loro business, Oristano era la location giusta, la posizione giusta. Nei primi anni vivono tutti insieme, vivono tutti insieme anche, ci tengo a dire, con tutti i collaboratori. I tre fratelli erano sposati, quindi avevano un po' di preve, però in un grande appartamento c'erano i tre fratelli con le mogli che preparavano, che quindi facevano le cose domestiche, poi c'era mio padre che non era ancora sposato e tutti i loro collaboratori più stretti, che venivano da segnoli, che quindi non avevano una casa e vivevano con loro. Uno dei valori nostri, forse più importanti, che era il riconoscimento, il valore di chi lavora con noi. Questa azienda arriva già ai primi anni 70 ad avere un fatturato, che per il territorio dove operiamo tra la dimensione era di 20 miliardi circa, che era un fatturato negli anni 70 tutto sommato importante. Il modello che era partito negli anni 50, quindi basato su un ingrosso, basato su una rete di quel tipo, incominciava a dare i primi segnali di declino, perché incominciavano a mancarci i clienti, incominciava a esserci uno spostamento della distribuzione verso un altro modello. Purtroppo in questo momento anche all'interno della famiglia c'è qualche elemento di relazione tra i fratelli, che porta poi alla fuoriuscita di un fratello. Esce i fratelli e rimangono fondamentalmente le tre famiglie. Noi abbiamo creduto che ci potesse essere uno spazio per fare un progetto importante sulla prossimità in Sardegna, che però avesse una forte focalizzazione sul punto vendita e non su ciò che c'è prima.